Belen. Ciao Stefano. Bacio Elio. Lo scoop di chi? Foto e dettagli. Belen Rodriguez beccata insieme alla presunta nuova fiamma. È arrivato l'addio definitivo con Stefano De Martino? No? Quelle che sembravano essere solo voci di corridoio si sono rivelate vere. La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ufficiale. A confermare definitivamente l'ennesima burrasca tra la coppia, è stato l'ultimo numero di chi? Il settimanale, infatti, ha immortalato la showgirl argentina in compagnia della sua presunta nuova fiamma, Elio Lorenzoni. I due sono stati paparazzati al compleanno del cognato di lei, Ignazio Moser, alla Mimosa Polo Club di Pogliano Milanese. Negli scatti in questione, Elio e Belen si sono mostrati molto affiatati, scambiandosi baci e abbracci. Elio e Belen. La nuova coppia. Come si legge nella rivista, Elio e Belen hanno partecipato insieme al compleanno di Ignazio Moser. Presente anche tutta la famiglia della conduttrice argentina. Papà Gustavo e mamma Veronica. I fratelli Cecilia e Geremias e, poi, i figli Santiago e Luna Marie. Unico assente? Chiaramente. Stefano De Martino. A quanto pare, la Rodriguez sarebbe arrivata proprio in compagnia della nuova fiamma e, dopo aver salutato tutti, ha iniziato a sistemare la camicia dell'uomo, come si vede anche da una foto. Tra carezze, sguardi e baci, la loro sembrerebbe proprio essere qualcosa di più di un'amicizia. Alla fine della festa, poi, i nonni Gustavo e Veronica sarebbero andati via con Santiago. Mentre Belen sarebbe salita in macchina di Elio insieme alla piccola Luna Marie. Infine, la nuova presunta coppia sarebbe arrivata al palazzo di lei e avrebbe trascorso la notte insieme. Solamente tre settimane fa, la Rodriguez e Stefano De Martino si stavano godendo una vacanza rilassante in barca nelle isole Pontine. Poi, improvvisamente, qualcosa è drasticamente cambiato. Dopo aver eliminato tutte le foto insieme al marito dai social, la showgirl non ha avuto paura di farsi vedere insieme a quella che pare essere a tutti gli effetti la sua nuova frequentazione. È arrivato l'addio definitivo con Stefano? Chissà. Chi è Elio Lorenzoni? Elio Lorenzoni ha 40 anni ed è un imprenditore bresciano. Come riportato dal settimanale Chi, Elio ha studiato economia e gestione aziendale all'Università Cattolica di Milano, per poi diventare presidente di Lorenz Motors e amministratore di Lorenzoni SRL, che si occupa di motori, accessori e componenti in tutto il mondo. Tra i suoi hobby troviamo il golf e l'e-bike. A quanto pare, Lorenzoni e Belen si conoscono da diversi anni. Precisamente dal periodo in cui la conduttrice ha iniziato una relazione con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia.